Ma io capisco la paura della Finlandia, però se fossi finlandese avrei altre due paure. La prima è quella che entrando nella Nato mi troverei sempre di più, poco per volta e non tanto poco per volta, in guerra con la Russia e non più un paese neutrale. Questa sarebbe la mia prima paura. La seconda paura è Erdogan, perché Erdogan qua non ne sta parlando nessuno, ma è una cosa gravissima, gravissima, che un dittatore, va detto perfino Draghi, un dittatore che non ha niente da invidiare a Putin. Putin è un massacratore, un assassino seriale. Beh, anche Erdogan è un assassino seriale, un massacratore. Per di più Erdogan è un ipocrita e un ricattatore e in questo momento sta facendo un ricatto gravissimo alla Finlandia e alla Svezia, dicendo se voi continuate a impedirci di massacrare tutti i kurdi, noi non vi facciamo entrare nella Nato. È strano che di questo non si parli. Ora lo chiediamo alla...